In nome di Vittorio Emanuele II, re d'Italia, la commissione mista e eccezionale di guerra all'uopo eretta, visti gli atti a carico di Nicola Lombardo, del fu Francesco, di anni 48, civile, Nunzio Sampieri, di Spiridione, di anni 27, Muripabro, Nunzio Spitalieri, del fu Nunzio di anni 40, Villico, Nunzio Longitano Longi, del fu Giuseppe, di anni 40, Villico, Nunzio Ciraldo Frajunco, del fu Illuminato, di anni 30, Villico, tutti di Bronte. La commissione mista eccezionale di guerra accusa i suddetti dei reati di guerra civile, strage, devastazione, saccheggi, incendi, omicidi e detenzione di armi vietate.